Io ho alcuni versi nel libro di un profeta che ha conosciuto un amore particolare da parte del Signore per arrivare a fare qualcosa di strano che il suo Dio gli chiedeva. Mi riferisco a quel profeta che su ordine del Signore sposò una prostituta. Quindi conoscete tutti quanti questo profeta. Di chi stiamo parlando? Di Osea. Fate sentire la vostra voce. Il libro del profeta Osea, leggiamo dal capitolo 10, i primi due versi e poi ci concentreremo su un verso più avanti. Ripeto il testo, libro del profeta Osea, capitolo 10, leggiamo i primi due versi. Vi do qualche minuto in più, siccome non è uno di quei libri che facilmente trovate, non è uno dei Vangeli, non è uno dei primi libri della Bibbia. Lo trovate nella parte seconda dell'Antico Testamento, quindi nel blocco dei profeti minori, libro di Osea, capitolo 10, dal verso primo, «A Dio sia la gloria». Israele era una vigna lussureggiante, che dava frutto per sé stesso. Più cresceva il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricco era il suo paese, più belle faceva le sue colonne. Il loro cuore è diviso. Ora ne porteranno la pena. Egli abbatterà i loro altari, distruggerà le loro colonne. Qual è la condizione di questo, più che paese, di questo popolo? Non chiudete il testo perché più avanti leggeremo un altro verso, sempre nello stesso capitolo. La condizione di un popolo che noi vediamo rappresentato in tutta la storia del profeta Osea da questa prostituta presa in sposa e che nonostante fosse sposa del profeta è adultera, va con altri uomini e quindi tradisce l'amore, la fiducia del suo sposo. Israele, eri una vigna lussureggiante. Se ciascuno di noi guarda alla sua vita e ci fermiamo a considerare la vita quale dono di Dio, quale perla, quale dono prezioso, quale gemma, quale possibilità, quale opportunità che Dio ha posto nelle mani di ciascuno di noi, tutti ci saremmo sognati. E avremmo voluto che la nostra vita fosse come una vigna lussureggiante, ossia un campo rigoglioso, pieno di frutti e di frutti anche di buona qualità. E se per qualcuno questo è accaduto, se per qualcun altro questo sta accadendo ora, se invece per tanti altri questo è rimasto un sogno, io sono certo di una cosa, che nelle intenzioni di Dio per ciascuno di noi è che la nostra vita, il nostro campo, sia un campo rigoglioso, sia una vigna lussureggiante, che porti non solo del frutto, ma che attraverso il ricavato di questo frutto ci siano delle lodi per Dio. Osea parla del popolo e dice tu eri una vigna lussureggiante, più cresceva il tuo frutto, più moltiplicavi gli altari. Vuol dire più le cose andavano bene, più c'era riconoscenza, più c'era gratitudine nei miei confronti. E questo oggi è qualcosa che invece non accade, perché umanamente quando tutto va bene quando la nostra vita è di successo, quando la nostra vita conosce la prosperità, quando i nostri sentieri sono rigogliosi, non sentiamo il bisogno di levare l'odi a Dio. Anzi, la storia di ognuno di noi, la storia di ognuno di noi dice invece che abbiamo cercato Dio quando la nostra vigna ha cominciato a conoscere la carestia, quando ha cominciato a conoscere le volpi che la guastavano, quando ha cominciato a conoscere la malattia. Saranno pochi, anche in questo contesto, in questa sera, a poter dire no, io ho cercato Dio, ho trovato Dio in un momento felice della mia vita. Sono invece sicuro che la maggior parte di noi ha incontrato Dio in un momento difficile, in un momento di difficoltà, in un momento di disperazione, in un momento di bisogno. ma per tutti vale quello che la Bibbia stessa dice, che nel momento in cui l'abbiamo cercato, Egli si è fatto trovare. Perché la Bibbia dice da parte del Signore, invocami nel giorno della distretta e Dio te ne tirerò fuori. Cercami e Dio mi farò trovare. E quando lo abbiamo trovato, e questo vale per chi l'ha trovato e per chi ancora oggi lo sta cercando, c'è una chiave di lettura che voglio condividere con voi nella storia di Osea e nella storia di questo popolo. perché fin quando le cose sono andate bene, Israele adorava il suo Dio. Poi a un certo punto, il verso 2 ci dice, il loro cuore è diviso. Com'è il tuo cuore questa sera? È integro? È intero? O c'è qualcosa che lo divide? O c'è qualcosa che porta tempesta? C'è qualcosa che porta della turbolenza? È importante investigare il proprio cuore. è vero che diciamo spesso Signore investigami, Signore conosciami. E dopo che gli abbiamo detto Signore investigami, Signore conosciami, gli diciamo Signore sanami, Signore modellami, Signore aggiustami, Signore correggimi, Signore intervieni. ma deve fare tutto sempre il Signore. È Lui che ci deve aiutare, è Lui che ci deve salvare, è Lui che ci deve guarire, è Lui che ci deve modellare, è Lui che ci deve cambiare, è Lui che ci deve trovare il lavoro, è Lui che deve pagare i nostri debiti, è Lui che deve pensare ai nostri figli, è Lui che deve pensare a casa nostra. È vero che la scrittura dice che Dio non dorme e non sonnecchia, ma io mi sento tremendamente in debito se Lui deve fare tutto questo per me e non faccio niente per Lui. Oggi spesso il Vangelo è un Vangelo tutto Dio e niente noi. Fa comodo vivere nella grazia di Dio fa comodo che tutte le responsabilità sono di Dio fa comodo che noi in un modo o nell'altro siamo sempre spettatori non paganti. eppure Paolo scriveva ai Corinti ad una chiesa divisa ad una chiesa faziosa ad una chiesa dove si parteggiava per l'uno e per l'altro l'apostolo dice io ho seminato Apollo ha innaffiato ma Dio ha fatto crescere. allora voi potreste dire fratello Elpidio ma allora è Dio che fa le cose io ho inseminato dice Paolo Apollo ha innaffiato e poi Dio ha fatto crescere prima dell'opera di Dio c'è il lavoro di altre due persone c'è bisogno di chi va a seminare c'è bisogno di chi va a innaffiare e poi Dio benedice il lavoro delle nostre mani ed è per questo che Paolo scrive ai Corinti noi siamo collaboratori di Dio ma torniamo al cuore perché se Paolo può dire di seminare e Apollo innaffiare scusate un po' di agricoltura la masticate tutti quanti se non proprio agricoltura a floricoltura prima di seminare solitamente cosa bisogna fare arare zappare faticare travagliere work sudare verso 12 seminate per voi secondo giustizia mietete secondo misericordia dissodate il vostro campo non coltivato perché è tempo di cercare l'eterno finché egli venga e faccia piovere su di voi la sua giustizia è bella la parte tempo di cercare l'eterno è bello leggere egli viene e fa piovere su di noi la sua giustizia ma affinché questo accade Osea dice ad Israele questa sera la scrittura dice alla mia vita la tua vita dissodate zappate rivoltate il vostro campo non coltivato il loro cuore è diviso diceva il verso 2 allora viene facile pensare che il cuore di ciascuno di noi è un campo da coltivare nel nostro cuore noi conserviamo in maniera metaforica i sentimenti gli affetti le cose più care dove le tenete come si dice quando amate una persona cosa gli dite siccome siamo in serata neapolita neapolita come si dice te teng non lo conoscete il napoletano indocora a volte il mio napoletano è un po' come quello di Ibisio indocora ma che altro ci sta dentro al cuore sempre metaforicamente parlando cosa ci teniamo nel cuore sopra qualcuno tiene i peli parliamo di dentro al cuore ma non mi riferisco ai peli del petto proprio a quelli che si dice in maniera popolare sempre per rimanere in napoletano tieno il cuore che pila la coppa è solitamente il cuore con i peli è il cuore che non prova dei buoni sentimenti è il cuore senza pietà è il cuore senza misericordia il cuore infame il cuore cattivo è il cuore di tutti quelli che non sono qui questa sera perché il nostro cuore non è così vero il nostro cuore è un cuore apposto che scandisce i battiti giusti che mantiene una giusta pressione arteriosa che non sgarra mai che pensa che pensa solo cose buone che vede solo cose buone che si interessa solo di cose buone il cuore nostro è il cuore del tredicesimo capitolo della prima epistola ai corinti vero non è un cimbalo risonante il nostro cuore è una gran carcassa tutta piena d'amore ditemi così è vero è così il vostro cuore fratello non mentite cerchiamo di non essere bugiardi e non vorrei indurre nessuno di voi in peccato questa sera la scrittura ci dice che dobbiamo rivoltare il nostro cuore vuol dire che di tanto in tanto noi ci dovremmo fermare così come a livello di salute di tanto in tanto dobbiamo controllare il nostro cuore muscolo controllare la nostra pressione arteriosa guardare che tutto funzioni per il nostro bene allo stesso modo dovremmo fermarci di tanto in tanto dire ma fammi controllare il campo che Dio mi ha dato cosa sto seminando nel campo del mio cuore quali frutti mi devo aspettare ma i semi che ho buttato o i semi che ha buttato il predicatore il seme che ha buttato il responsabile del progetto dietro il seme del fratello della sorella che mi hanno parlato dell'amore di Dio dove sono caduti e quando io parlo di semi non posso non pensare ad una parabola voi che siete più bravi di me semi parabola del troppo facile bene la parabola del seminatore che esce e va gettando i semi nel suo campo ma guardate quanto è strano questo campo ci sono rocce e ci sono semi che finiscono sopra le rocce e quanti cuori sono duri come la roccia hai voglia di gettare se puoi coprire la roccia con una montagna di semi non nascerà nulla perché quella roccia quella parte solida impedisce al seme di scendere dentro al terreno nello stesso campo ci sono tratti pieni di rovi pieni di spine e c'è un altro testo molto bello in Geremia capitolo 4 verso 3 che dice le stesse parole dice dissodate il vostro campo non coltivato e aggiunge non seminate tra le spine forse le spine sono come quei peli sopra il cuore che si attorcigliano che si annodano che coprono e quelle spine che cosa fanno? quando arriva il seme quando arriva il buon seme di Dio quando arriva la parola di Dio che dovrebbe portare un frutto a vita eterna cosa fanno le spine cosa dice la parabola del seminatore che le spine lo soffocano quanti cattivi pensieri quante cattivi azioni che cercano di spegnere quel fuoco che lo spirito di Dio intanto intanto cerca di accendere dentro di noi quante volte la fiammella del nostro cuore si è alzata e poi sono arrivati i cattivi pensieri sono arrivate le nostre cattive azioni sono arrivate le nostre cattive compagnie sono arrivate le nostre cattive amicizie sono arrivate azioni sbagliate che erano come dei secchi d'acqua che hanno spento l'azione dello spirito e l'apostolo sempre lui scrive non spegnete lo spirito vuol dire che nell'azione di Dio vuol dire che nel piano che Dio vuole attuare nella nostra vita se preferite chiamatela anche risveglio quel risveglio che tanti agognano che tanti invocano e sembra sempre che qualche fulmine che deve partire da una nuvola e colpirci in mezzo alla testa cambiate modo di pensare perché il risveglio non scende dal cielo ma parte dal nostro cuore parte da un campo dissodato parte da un campo rivoltato parte da un campo arato da un campo predisposto alla semina parte da un cuore che decide questa sera che ha deciso ieri che ha deciso l'altro ieri e ha detto signore io voglio cambiare vita perché non è Dio che ci converte non è lo spirito santo che ci converte lo spirito viene parla al mio cuore parla alla nostra anima ci convince della nostra condizione ci mostra quale futuro abbiamo da peccatori ci mette davanti la nostra condizione di uomini e donne separati da Dio e ci dice se tu non cambi strada finirai all'inferno se tu non cambi vita morirai per sempre e quando lo spirito mette questo davanti a noi così come quando il medico ti dice se non la smetti di fumare se non la smetti di bere se non la smetti di avere una vita smodata improvvisamente potresti siccome il medico è persona gentile dice passare a miglior vita il predicatore non è persona gentile e dice a quelli che non sono ancora credenti e nati di nuovo se non la smetti se non cambi vita finirai all'inferno perché il medico può dire le bugie il predicatore no dove vuoi andare dove vuoi portare il tuo cuore dove vuoi condurre la tua vita ci vuole coraggio tanto coraggio per esaminare se stessi da dove vogliamo cominciare parlo a quelli che sono bravi che hanno il cuore senza peli quelli che hanno il cuore che fa tutto solo in senso di amore che non odiano nessuno che non si arrabbiano mai con nessuno quante cose buone Dio ha messo nella nostra vita e noi non gli abbiamo mai detto grazie perché il Vangelo oggi è sempre signore ho bisogno di questo signore signore mi manca quest'altro signore è questo signore così signore colì spiritualmente siamo come i nostri figli incontentabili e più gli diamo e più sbagliamo perciò Dio non ci dà sempre perché Egli non è genitore come noi Egli sa che non possiamo avere tutto quello che chiediamo Egli sa che dobbiamo avere ciò di cui abbiamo veramente bisogno e Lui sa ciò di cui noi abbiamo veramente bisogno ma dovremmo fermarci nell'esame del nostro cuore e dire ma quante volte ha piovuto quanti alberi ci sono quante benedizioni quante provvidenze abbiamo ricevuto cominciando dai familiari dai parenti dalle eredità dal lavoro dai vestiti dal mangiare ma buttiamo tutto quanto stamattina ci siamo svegliati oggi siamo ancora nel numero dei viventi e ti sembra poca cosa noi dovremmo avere questo senso di gratitudine costantemente nella nostra vita perché se riconosciamo che ogni giorno è un dono di Dio ogni giorno noi prenderemo il nostro campo e lo zapperemo perché diremo signori io non lo so se domani avrò altra possibilità ho bisogno di oggi di fare un altro fosso e voglio che tu oggi venga a piantare qualcosa di buono che tu faccia piovere sulla mia vita che tu venga e visiti il giardino della mia vita guardate come meravigliosa la simbologia della Bibbia dove Dio incontrava Adamo ed Eva in un giardino e dove era questo giardino la scrittura dice che Dio scendeva nel giardino perché era qualcosa al di sotto egli la sera scendeva a parlare con Adamo ed Eva è il nostro cuore è il luogo dove dobbiamo incontrare Dio dove dobbiamo parlare con Dio dove egli viene a visitarci egli viene ad incontrarci e se tu sapessi adesso se dico questa sera voi impazzireste perché direste non c'ho il tempo è come se io dicessi a qualcuno di voi questa sera vengo a mangiare a casa tua voi non lo direste ma pensereste oggi non ho pulito la casa non ho preparato nulla perché non andiamo a mangiare da qualche parte eppure Gesù con più di qualcuno durante la giornata si è fermato e gli ha detto vengo a mangiare a casa tua se Dio questa sera venisse a visitare non voglio parlare di voi parliamo del mio venisse a visitare il mio campo non vi dico come lo troverebbe sono fatti miei sono cose mie e sue il tu come lo troverebbe sono felice per te sicuramente ciascuno di noi potrebbe fare meglio ciascuno di noi potrebbe fare qualcosa di più ciascuno di noi deve fare qualcosa in più dissodate il campo non coltivato io non posso coltivare il tuo cuore nessun pastore nessun fratello nessuna sorella può coltivare il mio cuore io posso aiutarti posso suggerirti che cosa fare ma aspetta te aspetta te vi potrei fare un elenco lunghissimo di spine di rovi di tralci e intralci vi potrei elencare tutti i peccati possibili e immaginabili almeno quelli che conosco io ma poi sicuramente siccome non sono molto esperto in peccati ce ne sarebbero tanti altri per i quali qualcuno di voi è molto più esperto di me ma ciascuno si tenga i peccati suoi ma qualunque essi siano vanno tolti la mia vita non è cambiato perché l'ha deciso di la tua vita se non è ancora cambiata è perché tu non l'hai ancora deciso e non la può cambiare Dio al posto tuo tocca a te dire voglio cambiare la mia vita primo passo secondo passo Signore aiutami ed egli sarà felice di venirti a dare una mano egli sarà felice di entrare in casa tua nel momento che tu gli apri la porta e gli dice Signore entra e aiutami a mettere a posto ma egli non sfonderà la porta di nessuno egli non è lo spiritello di notte che mentre noi dormiamo lui rassetta la casa al posto nostro egli non è la fata turchina turchese scegliete voi il colore che viene e cuce gli abiti al posto nostro o zappa la terra al posto nostro e noi ci svegliamo la mattina e troviamo tutto bello e preparato e raccogliamo assolutamente no e quando egli fa piovere dal cielo così come è accaduto per Israele nel deserto la manna se la dovevano raccogliere da sole il Signore non faceva il pacchettillo e glielo consegnava a domicilio la manna pioveva dal cielo ma ognuno di loro doveva uscire e raccogliere Dio ci vuole come i suoi collaboratori altrimenti avrebbe delle marionette avrebbe delle figurine ed è per questo che la grazia di Dio è sì forte sarà pure irresistibile ma non sfonda la porta di nessuno di noi perché Dio è troppo rispettoso Dio è troppo educato ma ci ama ed è per questo che ci parla attraverso la sua parola ed è per questo che ci consiglia e questa sera consiglia a me può se lo vuoi anche tu questo consiglio dice rivolta il campo del tuo cuore vedi cosa c'è che non va estirpalo tiralo prepara il campo perché sta arrivando la pioggia della mia benedizione sta arrivando la pioggia della mia approvazione e se tu ti disporrai l'antico testamento dice se tu osservi i miei statuti le mie leggi io ti benedirò e che cosa è la benedizione di Dio se non Dio con te Dio con me e se lui è con me se lui è con te chi potrà ostacolarti chi potrà fermarti allora fratelli questa sera un po' di cardiologia personale esaminiamoci mettiamo le mani dove dobbiamo tiriamo via quello che non appartiene al Signore e cominciamo un cammino nuovo vi invito ad alzarvi e vogliamo pregare su questa parola vogliamo chinare il nostro capo Signore noi crediamo che la tua parola è parola vita eterna che il tuo consiglio i tuoi suggerimenti non sono solo per il nostro presente ma sono per il nostro oggi e soprattutto per il nostro domani che nel portare un bene alla nostra vita tu lo estendi alla nostra casa alla nostra famiglia perché se la tua benedizione la tua pioggia scende sulla nostra vita ne avranno beneficio anche quelli che sono attorno a noi a questa sera davanti a questa parola vogliamo prendere coscienza vogliamo assumere la nostra responsabilità che tu ci hai affidato qualcosa di prezioso ed è importante che è la vita di ciascuno di noi e che in maniera troppo leggera noi abbiamo lasciato riempire di rocce di sassi di massi di pietre abbiamo lasciato la nostra vita essere avvolta da spine da rovi da cose cattive maliziose ingiuste corrotte peccaminose che tu non approvi e che noi conosciamo che possa il tuo santo spirito in quest'ora donarci il coraggio necessario per rivoltare la nostra vita per girare la pagina e se necessario anche di strappare la pagina del nostro passato fino a questo momento è di dire in tua presenza ai piedi tuoi signore io voglio cambiare vita io voglio essere una persona diversa io voglio vivere secondo la tua volontà io voglio che la mia vita sia un campo rigoglioso benedetto da te dona il coraggio necessario e se proprio il coraggio non ci basta signore noi ti preghiamo e ti supplichiamo vieni e aiutaci signore vieni e soccorrici donaci la forza necessaria per cambiare le nostre strade per dirigere i nostri passi lungo i sentieri di giustizia per cominciare a fare appieno la tua volontà con tutto il nostro cuore amici a fare Grazie a tutti.